Grazie! Federico Lauri in arte, Federico Fashion Style, sbarca a Firenze e l'airstylist ha inaugurato un nuovo salone nel centro della città, una festa pazzesca, quella organizzata per l'apertura del nuovo punto bellezza. Il 32enne non ha badato a spese per la realizzazione del nuovo salone di Firenze. Lo stile è quello che il köffert predilige, oro e dettagli preziosi. Per il negozio fiorentino, Lauri ha voluto puntare anche sul blu, fiori, tessuti e marmi. Firenze è il fiore all'occhiero dell'Italia, una città piena di arte e bellezza, non potevo non aprire qui, ha spiegato.